Ciao sono Paolo Bacci e vi presento questo bellissimo Leica Cosmo 912 emblema. Perché dico bellissimo? Non è una parola scontata come in altre schede faccio, video faccio, è per dirvi che noi cerchiamo di acquistare per voi. Quindi il bellissimo per noi è un campe che abbiamo scelto di acquistare. Qui il garage. In questa versione questo camper ha il letto centrale nautico posteriore quindi questa parte sale e scende. In questo caso è basso. Basso quando è che si usa? Di inverno soprattutto. Perché almeno non abbiamo le biciclette e abbiamo questo grande contenitore come vedete ci si può mettere di tutto. Ma anche lasciare le biciclette estive oppure il monopattino che vi serve per tutto l'anno. Questo è il letto basso. Guardate come si sale facilmente, come si accede facilmente al letto. Molto basso, molto comodo. Questo è un letto. Io sono alto un metro e ottanta quindi come vedete ci sto tranquillamente e guardate com'è molto largo. Una bella finestra laterale, una a destra e una a sinistra e l'oblò. E questo invece è il garage con il letto alto. Quindi potete mettere tranquillamente quante le bici, sedie, quanto, quant'altro vi occorre da mettere nel garage. E questo invece è il letto alto. Guardate che si sale e qui qui siamo nel nostro letto. Guardate questa bellissima porta, una grande porta e un facile accesso. Il 912 qui è il face to face, faccia faccia, chiamiamola come vi pare. Quindi una bellissima zona giorno con un tavolo piegato quindi comodo per conversare o si apre quindi un grandissimo e comodo tavolo per le sei persone. Cos'è che vi voglio far vedere in genere dei campi? Vorrei farvi capire l'abitabilità di questi oggetti perché poi nella scheda, il nostro sito, andate nella scheda del 912 troverete tutte le caratteristiche altezza, larghezza, meccanica, optional che ci sono stati montati sopra. E ora vi faccio vedere questa parte che è molto luminosa. Il motorhome è un camper molto molto luminoso sia durante la zona giorno, come vedete, sia le finestre qui, che le due finestre, che il oblò, sia durante il viaggio. Il viaggio nel motorhome cos'è bello? Dico sempre. Il viaggio nel motorhome è che quando uno si mette a sedere alla guida di un motorhome è già in vacanza. Al momento che fa quel tratto di strada che tutte le volte fa andando al lavoro o portando i figli a scuola o spostandosi da casa, ha un modo diverso di partire. Si parte con il camper, con il motorhome e si parte per la vacanza. E ora vi faccio vedere il letto. Allora, questo camper è comodo per... è un omologato quattro persone e è un comodo quattro persone. Perché? Perché ha un letto bellissimo davanti, molto grande, facile a buttargiù e anche a salire. Perché, vedete, c'è la scaletta, c'è la scaletta di serie, ma è troppo comodo montare sulla seduta qui e salirci sopra. Tanto qui c'è la plastica. Vi faccio vedere come è veloce e comodo. Guardate, grande, illuminato, areggiato. E poi c'è la protezione nel caso di bambini. Qui sotto c'è una protezione per far sì che i bambini non cadano. e c'è la chiusura con la tenda che divide la parte anteriore alla parte giorno. Come vedete, il letto non disturba la parte di sotto. Quindi, facilmente, qui si fa colazione e chi sta nel letto può dormire tranquillamente. e con un processo molto veloce ritorna una bella zona giornata. Qua, poi, la parte cucina. Qui sopra c'è tanti contenitori. Qui la parte cucina con i tre fuochi e un bel lavello molto profondo che, in questo caso, fa da piano d'appoggio cassetti e contenitori vari. Questa zona c'è un bel frigorifero con congelatore e portabottiglie. Un altro contenitore sotto. Qui il portatelevisore. Qui ci si può mettere una piastra che con il televisore, quindi, non disturba e nello suo tempo si può lasciare in questa posizione o portare più avanti per meglio vedere con più persone. Ora andiamo dalla parte posteriore. La parte posteriore ha due porte. Una porta che divide la zona, diciamo, cucina e soggiorno alla parte notte che è qui resta e anche una porta che divide la parte servizi, quindi centrale, dalla parte notte. Per cui, cos'è importante? Nel caso qualcuno si svegliasse presto e si alzasse e la persona che è qui dorme tranquillamente e chi fa colazione o va in bagno o fa tutte le cose senza disturbare colui che è all'interno a dormire tranquillamente nel letto. Qui c'è la doccia. Un bello blow illuminata. La stecca per l'usarlo d'inverno d'inverno si può usare tranquillamente per appendere giacche bagnate quindi si scaldano e si asciugano velocemente e anche se scaricano scaricano la doccia e non c'è più problemi. Qui c'è una bella area guardate come ora non so ecco ci si sta belli belli larghi ci si lava tranquillamente anche persone io sono 1,80 e sono anche un po' tondetto quindi ci state bene. E qui il il bagno ecco in questo caso porta aperta qui c'ha le stecche da poterci mettere il porta asciugamani il water comodo se però allora come vi dicevo c'è la possibilità di chiudere questa parte quindi avere un bello spazio grande ma anche senza chiuderlo come vedete ci si sta tranquillamente c'è l'oblò e la finestra laterale un bel lavandino con porta spazzolini e porta sapone suo del contenitore qui sopra e sotto quindi ti aspetto ti aspetto a farti vedere questo bellissimo camper anche per descrivertelo oppure per farti vedere tantissimi altri camper nuovi e usati motorhome profilati e di altro genere a ottimi prezzi da un'azienda solida come la Caravan Vaci ciao 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 Grazie a tutti.